Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video Adesso sono qua in mezzo al bosco che sto camminando Sto cercando un punto qui in mezzo al bosco per poter far decollare il drone Per farvi vedere i colori dell'autunno qui sul nostro appennino Mi trovo sempre nella zona di Premio Il Cuore Adesso guardate qua sto girovagando Sono nel mezzo del bosco Adesso continuiamo qui a camminare Andiamo su e vediamo Il primo spiazzo che troviamo farò decollare il drone Così potrete vedere tutto il nostro appennino sotto i colori autunnali Eccoci arrivati Questo dovrebbe essere un ottimo punto per far decollare il drone Buona visione ragazzi Grazie per aver guardato il nostro appennino Grazie per aver guardato il nostro appennino Grazie per aver guardato il nostro appennino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.